ci concentreremo invece più sulla parte relativa alle schermature solari passive e come intervenire su superficie trasparenti esistenti quindi proprio il caso del recupero di edifici e della parliamo l'esterno del 100 per cento energia solare del momento ne passa subito un 7 per cento all'interno ma oltre il 50 54 per cento energia viene già deviato all'esterno ancora prima di trasformarsi in fra la domanda è oltre l'argento quali altri cromatismi sono presenti quindi qua cina allora tre più una la gamma dipende dal tipo di metallo che viene utilizzato per riflettere energia allora potremmo usare tutti